In crescita in Umbria la domanda di locazioni a medio termine nei centri storici che registrano un trend positivo a fronte anche della trasformazione del mercato delle locazioni brevi, concentrato ormai in soli tre mesi l'anno con un'alta incidenza dei costi, anch'essi tassati a causa della formula all inclusive che obbliga il locatore a includere nel canone i oneri accessori. Lo afferma la Borsa Immobiliare dell'Umbria, organo della Camera di Commercio, che ha lo scopo di migliorare la diffusione di informazioni per agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta in condizioni di trasparenza e di valorizzare il mercato immobiliare attraverso l'emanazione ed il rispetto di regole chiare di funzionamento. La locazione a medio termine rappresenta una risposta valida, concreta, per ridurre i costi, per avere una certa redditività e quindi poter apportare delle migliorie al proprio appartamento. Il rapporto 2022 dell'osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell'ABI che riporta i dati ufficiali dell'anno 2021 certifica che a fronte di un calo rispetto al 2019 delle 12,6% delle abitazioni locate con contratti ordinari non agevolati di lungo periodo, quelle locate con contratti non agevolati a carattere transitorio, sono aumentate dell'1,4% e le abitazioni con contratti agevolati di medio periodo, soprattutto per studenti, hanno registrato un incremento delle 23,9%.